Cartolina da Palermo, non un paesaggio, un famoso monumento della città, ma l'ennesimo ritratto del degrado e delle disfunzioni del servizio di raccolta rifiuti. Cumuli di spazzatura di ogni tipo ai lati della strada, dai materassi ai mobili agli abiti, passando per i serbatoi di acqua dismessi e le carcasse di animali. Accade in via Giuseppe Libassi, nel popoloso quartiere Montegrappa-Santa Rosalia, a due passi dalla cittadella universitaria di Palermo. I residenti denunciano di aver più volte segnalato al comune la loro condizione di disagio senza alcun risultato. Quando va bene, infatti, viene portata via soltanto la spazzatura conferita nei cassonetti, lasciando dov'è quella per strada. Abbiamo imbondizia, spocizia, pulce, zecche, di tutto, c'è di tutto. Nessuno si interessa, nessuno. Tante volte ho fatto il numero verde per la situazione che c'è, però l'operatore ecologico si vede ogni tanto. In fondo a Viali Bassi campeggia una discarica abusiva dove proliferano pulce e zecche che i residenti si sono ritrovati addosso più volte. Non mancano poi rifiuti pericolosi. Da oltre due settimane appoggiate ad un muretto è possibile trovare lastre di ethernet e vetro che qualcuno ha ben pensato di abbandonare lì, senza prendersi cura di smaltirle nel modo corretto. Un pericolo reale per la salute e l'incolumità di quanti passano, compresi i centinaia di ragazzini che frequentano la scuola cinà ubicata all'inizio della strada. Noi paghiamo le tasse come tutti gli altri. Perché non viene nessuno a pulire non lo capisco. In via Giuseppe Libassi ci sarebbe anche uno spazio verde, ma il condizionale è d'obbligo perché di certo nessuno dei residenti va di fare lo slalom tra la spazzatura che riferiscono a essere lì da diversi mesi. Per un po' hanno ripulito da soli e adesso chiedono al comune di intervenire anche perché la tares l'hanno già pagata, ma per loro nulla è cambiato. Se vogliono uscire da casa sono tuttora costretti a turarsi il naso. La procura di Palermo sta indagando per inquinamento ambientale. Di certo non le mancheranno le prove di una condizione divenuta ormai la norma a Palermo. Qui infatti la munnizia è di casa. Non ci può stare più, non ci può resistere, non facciamo altro che respirare e puzza di immondizia. Tutti vengono a scaricare qua.